I socialisti restano la spina dorsale su cui impergnare la questione sociale, su cui sviluppare le politiche del welfare. Ieri Bobo Crack si assalerno insieme a tutti i vertici e gli esponenti del PSI salernitano e campano, rilancia il ruolo del partito del Garofano e lancia senza sé e senza ma Enzo Maraio come il nuovo che deve affermarsi a partire dai giovani che possono avere proprio in Maraio una figura adatta a rappresentare loro e le loro esigenze che sono in primis formazione ed occupazione. Maraio ha acquisito negli anni al comune di Salerno un buon pedigree, un buon curriculum, una buona esperienza amministrativa, un modo vecchio per fare politica e io penso che l'usato sicuro in questo momento sia molto meglio che l'improvvisazione e il nuovo avventurismo. Entrando poi nei temi di questa campagna elettorale, gli attacchi a Stefano Caldoro da parte di Craxi. Il mancato stanziamento dei fondi europei da parte della regione Campania, fondi che a Salerno non sono mai arrivati, l'inefficienza del sistema sanitario campano a cui si aggiunge una situazione di complessiva difficoltà dell'intero sistema della regione Campania. Problemi che potrebbero trovare risposte mutuando alla regione un modello di successo, quello di Salerno. Un modello del tutto esportabile sul piano regionale, se noi lo intendiamo come modello di efficienza amministrativa, di efficacia e soprattutto di ascolto degli operatori, anche di traduzione in atti concreti di quelle che sono delle idee. È inevitabile immaginare che per esempio sul turismo, che mi ha visto interprete di una serie di sollecitazioni che erano state fatte dagli operatori, noi abbiamo concretizzato a Salerno davvero uno sviluppo incredibile. Questo lo possiamo fare a livello regionale, dove invece come sapete nel turismo per esempio su Expo abbiamo avuto assolutamente una incapacità gestionale per cogliere un'opportunità incredibile. Questo avviene dovunque. Sulle politiche sociali abbiamo visto negli anni di governo Caldoro, abbiamo visto l'annullamento e l'azzeramento per esempio delle poste in bilancio per le politiche sociali. Se questo è un modello riformista, un modello socialista che guarda avanti e che vuole liberare, e questo è il segnale che diamo da questo convegno di oggi, vuole liberare energie per superare la paura, per superare i bisogni e per valorizzare il merito, credo che questa giunta abbia molto poco di socialista.